Ciao a tutti e buonasera. Volevo velocemente informarvi di un appuntamento molto importante questa sera alle ore 21 sul canale YouTube del mio carissimo amico Francesco Mazzacane, ricercatore e divulgatore della realtà extraterrestre e di tutte le fenomenologie a essa legate come la scienza dello spirito mi ha intervistato due giorni fa. Questa sera andrà in onda in prima visione questa intervista appunto nel canale, ripeto, dell'associazione culturale Legalité, Egalité, Fraternité alla quale vi invito calorosamente ad iscrivervi perché è molto molto interessante, è un canale che cammina sui nostri stessi binari, su chi segue la mia associazione, la nostra associazione. Conoscete tutte le tematiche che affrontiamo ogni giorno, quotidianamente, con tanto impegno, dedizione, trasparenza e onestà. Questo è indiscutibile con tutta l'umiltà del mondo, o almeno ci proviamo. Nei nostri intenti c'è sempre la voglia di voler portare un'informazione adeguata e più veritiera e oggettiva possibile. Quindi niente, tratteremo le tematiche a noi più care, quindi la realtà extraterrestre, le prove oggettive rilasciate anche dagli enti ufficiali, come questa si può incontrare nelle nostre vite quotidiane, che cos'è la scienza dello spirito, cosa ci insegna, quanto può aiutarci nella nostra vita. Quindi tutti argomenti interessanti per noi tutti, che volete, se volete, se non volete perderveli, quindi iscrivetevi al canale Legalité, Egalité Fraternité, alle ore 21. Mi raccomando, numerosi, puntuali e vi chiediamo di condividere. Un abbraccio a tutti, buona serata questa sera.